amici di passione tennis bentornati sul canale impresa del giorno lorenzo sonego l'italiano batte in quel di dubai a tp 500 al primo turno il canadese numero 9 del mondo augere la sim ricordiamolo che è stato il protagonista della scorsa edizione della coppa davis che ha portato la sua nazione il canada a vincere la coppa davis quest'anno aveva fatto un buon australiano open ma niente di più e infatti non lo vedevo informissimo però va detto che non è tanto che abbia giocato male il canadese o comunque non il miglior augere la sim insomma della storia però va detto che è stato veramente annientato da lorenzo sonego che ha giocato una partita meravigliosa non lo vedevo giocare così bene forse da quel torneo di viena di qualche anno fa dove fu sconfitto solo in finale da rubie dove sconfisse anche novak diokovic e in quel torneo ma veramente sbagliato pochissimo giocato veramente bene dritto rovescio il servizio passanti risposte ricordo proprio la risposta vincente praticamente con il rovescio sul set point del primo set sul nel tie break e quindi vince con il punteggio di 76 64 ma veramente un lorenzo sonego convincente che se giocasse così tutte le partite durante l'anno probabilmente lo vedremo fisso fra i top 10 e quindi bellissima partita veramente complimenti a lorenzo sonego sperando possa continuare a giocare così ovviamente che ci serve anche in chiave coppa davis ma soprattutto più italiani vanno avanti più italiani battono giocatori anche top 10 meglio è e complimenti ovviamente a lorenzo sonego il grande lottatore e poi ovviamente saprete già che i fratelli berrettini hanno battuto i loro primi turni per diciamo sono ritirati gli avversari in quel di acapulco berrettini contro molcan 6 0 1 0 il ritiro di molcan e berrettini che vince il suo primo jacopo il fratello che vince il suo primo la sua prima partita a tp in un 500 dove si è qualificato e battendo il tedesco otte per 3 6 7 6 2 a 1 e il ritiro di otte male per tarderi ripescato che perde contro l'americano mcdonald e a santiago del cile oggi giocano musetti contro munar alle ore 20 cecchinato contro il brasiliano monteiro più o meno intorno alle 22 e 30 penso a seguire e nella notte rigiocheranno i fratelli berrettini e ci dovrebbe essere vediamo un attimo se sempre la giornata tra domani e stanotte verso le 4 si gioca berrettini contro i mer lo svedese e niente no solo questo solo questo e al livello challenger luca nardi come saprete uno dei miei pupilli se non il mio uno dei miei pupilli preferiti nel challenger di pune in india batte l'altro italiano lorenzo giustino per 76 un tie break lunghissimo per di primo set scusa scusate 76 però dopo vince al terzo set facendo 6 0 6 4 i successivi set quindi un luca nardi che piano piano sta ricarburando sta acquistando punti perché ovviamente il mio desiderio ma penso anche quello vostro prima di tutto che entri il piano possibile fra i top 100 e soprattutto che quest'anno entri insomma che si qualifichi per le atp next gen di milano e questi sono gli aggiornamenti quantomeno quelli più in vista di oggi insomma poi ovviamente ci sono altri tornei altri italiani ma questo è quello più importante ovviamente speriamo a questo punto il buon proseguo per questi atp 500 sia per i fratelli berrettini sia per lorenzo sonico l'atp sulla terra rossa quindi per musetti e cecchinato quindi oggi tutti sintomizzati su super tennis dalle ore 20 circa quindi musetti monar e poi cecchinato monteiro e se ci dovrebbero essere altri aggiornamenti ovviamente rimanete qui collegati al canale perché come ho detto già da lunedì questa settimana io me lo sentivo che era molto succulenta a parte che giocavano un sacco di italiani ma tornava berrettini qua e là quindi se volete questi contenuti io come sempre come sempre vi ripeto vi ricordo iscrizione al canale lasciate like e commentate a un prossimo video ciao